casa generale inter-lazio una partita di tanti ritorni di ex ritorno in zaghi acerbi correa ad affrontare la propria squadra ce ne stanno ce ne stanno e però ragazzi miei oggi generale sono tutte lì le squadre bisogna per forza di cose vincere a mezzogiorno a mezzogiorno guarda lo stadio pieno bello dobbiamo dobbiamo fare dobbiamo fare i tre punti dobbiamo fare i tre punti e ci abbiamo giampiero che oggi lo vedo un po meno ottimista del solito prima in telecamera spenta detto andrà male vediamo un po adesso invece cosa dire 2 a 1 per l'inter e ogni volta fai sempre casino oggi dobbiamo vincere ultimo treno per agganciare gli altri quindi oggi vinciamo sicuro al cento per cento il culo ti bacia gol di lukaku e anche l'ex correa hai fatto cinema ma oggi l'ex deve segnare 100 per cento con 100 per cento proprio come ti permetti certo siamo già insieme agli altri va benissimo alla grandissima ma andiamo anche da con una zero non capiscono una minchia sempre di misura sempre vittoria vado io con un miserabile 1 a 1 non capiscono una minchia ma ragazzi me l'unico vero verdetto quello che conta è quello del generale il nostro guru l'avete visto anche nel nello scorso pronostico oggi all'ultima io sono convinto che che facciamo all'inverso il risultato che hanno fatto l'ora da tre anni orgogliosi di essere tuo amico mamma mia mamma mia scassata del generale se l'ha detto il generale oggi chiudete i televisori non guardatela neanche la vittoria è già nostra detto questo se volete una di partite esattamente ascoltate i consigli ascoltate i consigli del buon generale anche lui sempre aggiornato sul mondo del calcio cosa guardi dai lights ogni tanto di tutte le partite di tutte le partite della serie a guardatela anche voi aggiornati sulla vostra squadra il cuore quello che vi pare l'applicazione poi è gratuita quindi link in descrizione ho qui il code per rimanere aggiornate detto questo forza interiore bella messina è già domicilio ma ha detto che non mi ha detto qua ma forta da essere forta ma la carta è forta beh che cosa vской pallone ok quindi varie non io ore è Vedi? Vedi? Fuori gioco? Correa Ma per te si è fuori gioco? No, io non credo di più allora posi di fuori gioco Ma per gli annanzi Se quando vai a Leibet Non abbiamo automatico il corso Porca puttana Per non so ne giuro che hai visto era bene Per gli annanzi Pannaggia a Gesù Ma non hai visto? Non è che credo di più Morca troia L'altra sera per esempio qua Ma non c'è la miseria Non ho più voce Non l'ha fatto spiegare Ma proprio da polli Proprio da polli Ma anche i polli fanno il cappone Ma proprio da polli Le ponte Ma che polli Ma che polli fanno? Non si può da sola ci fanno fuori Ma cerba fuori bastoni Cerma Ma come si aiuta la carta Ma questo va appresso Facciamo sembra Asciutto diamo mamma mia portatini c'è una maniera, un malosegno un malosegno, un malosegno, porca miseria ho dato il calaverio di Correa prima guardate la palla, ha perso, manneggia, la miseria, manneggia tanta volta c'era ma veramente che è una cosa pazzesca guarda, guarda, guarda guarda, guarda, guarda mamma mia, mamma mia Francesco vuoi, è proprio, la madonna è scivolato la tavola, è arrivato con lui ha fatto il nome del colore, qua, sassi no, 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 no non mi ha mai giocchiati, ma non mi ha mai fatto se cazzate, guarda, guarda è scivolato Maglioni infatti è da fuori, aria di rigore serie di blocchi in aria fatta il traversone, proprio verso Maglioni e una nalla preste mamma mia, mamma mia siete qui alcolari in questo minato in primo tempo mamma mia squadra a rivolto a fine primo tempo mamma mia mamma mia mamma mia mamma ha rotto mano agli apparati nella tappa volta in scivolata ma scusa, ma gangi il ritacchetto, la fangolo tre volte ma questo è che ti ha dato alcuno conto che non vanno andando a scappare bisogna fare altre volte quando invece gli ho detto uno d'alazzo di acce gli ho detto a mettere un po' di vaseline con un po' di sapone io non ci volevo guardare ma come cazzo potremmo perdere tutti i suoi vedi l'altro vedi l'altro vedi l'altro vedi l'altro poca figlia di troia poca puttana tre palle rispera tutte e tre foto un gol ma hai visto l'aiuto qui non spero lontano per gli due palle guarda l'altro ma perchè non lo caggia dico no? ma hai visto che ma quello dice che se lo caggia un po' se lo caggia un po' e se lo caggia un po' e se lo caggia un po' e se lo caggia un po' non ciiralmente mamma mia come ha fatto il primo secondo goll no hai capito che fa deal ma quando metti testo il tipo ma non lo potevo, vitte la domanda ma nezzala la miseria oh eh lo fanno l'altro eh a chiudere non lo riparare per farti questo è l'atteso questo è l'atteso ma come cavallo questa cavallo è libera non ha acconto manca la porta e non ha accorto non ha acconto manca la porta e non ha accorto ma come c'è? c'è ancora un gatto vai 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 Laltaro nooo 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 ci sono il più di più di noi come giocatore siamo più forti noi come no se fai più forte secondo te ma eeeh dai 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 dalle vince dai capis Oh catroia! Mannaggiavi te! Mannaggiavi te! Mannaggiavi te! Oh catroia! Questa è... All'andata pure avevo segnato un po' La votare è... La votata, la votata Ma che dirà la votata Senza fattenere la votata Si fa tutta la votata Tira, tira, tira! 我 lo bem… Se trattere! No Porco! No Porco! No Porco! Robin! Robin! Cosenta! 2-1! Grande Robin! Te facciamo un ballo qui. Mamma mia Robin! I ragazzi, aspetti, facciamo un ballo. Sì, soffre la squadra con te! Capite che il pombo prima ha cominciato con la legge, però... Guardate che si vuole, tutti i miei giustani... Bene, bene! No! E vai! E vai! Sì! Il culo! Mi viene a scartare con me, cavolo! Allora, ha fumato però! Si, hai fumato sempre! Ha avuto pure cavolo, che va l'altro! Non hai da scartare, eh? Ma forse... Ma forse non c'è già... Ehi, no, va adesso! Quello che è andato a 6-7 minuti, che madonna! Hai ingappato il golo, dove c'è il golo? E vai! Guarda, cosa cazzo è successo? Se no, non lo vanno ad otto, c'è... Ma non lo vanno ad otto, c'è... Ma non lo vanno ad otto, c'è... Ma non lo vanno ad otto, c'è... Ha ingappato tutto il salato... Allora, non lo vanno ad otto... Ma è finito il genuino, eh? Il sudeta! Uguro! 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 Bravo! Due di fila non è facile! Uguro! Il duro! Eh, ma... Questi erano due... Andarci vicino, quanto è una mazza! Uguro! Due di fila, generale! Ma hai detto due? Grazie! Ma hai detto due? Ma hai detto tre? Ma sai perché? 직ra? ные Ghiutoki? Tu ti ci seilook! Sanremo... Di Truth detata del lavoro manacicata... Si, dove diamo... Eh, dietro stupendo... C'è, è verità... Ya你知道 quality... 3,4,4,15 al cinema... E io tu ci stupendo... Aiento intanto... E io tu... Di qua ma là non... 你 c'era un nome... No uguro, La sua mazza, la sua mazza may bienerebbe... słuchate dage... Grazie per la visione!